Grave episodio di bullismo, siamo a Rossano Veneto, ore 5 del pomeriggio, capannello di ragazzini del paese davanti alle medie rodari. Stanno bisticciando a un certo punto uno di loro, 15 anni, pluriripetente, già noto per episodi di aggressione, inizia prima ad offendere pesantemente, prendendoli in giro per il suo aspetto fisico, quindi a spingere un compagno di 3 anni più giovane fino a buttarlo a terra. Non contento, il teppistello lo prende a calci, procurandogli un trauma commotivo. Arriva l'ambulanza, il 12enne viene portato all'ospedale di Cittadella, per lui la proniosi è di una decina di giorni. Si scopre che la vittima in più occasioni, anche nel recente passato, era stato oggetto di scherno da parte del bullo della scuola, sdegno da parte del sindaco Morena Martini. Noi come amministrazione facciamo il possibile anche per coinvolgere i ragazzi, proponendo soprattutto ai genitori degli incontri per poterli educare alla genitorialità, ma non è così semplice. Io stessa tante sere passo per vedere dove sono questi ragazzi. Ci sono ragazzi di 14, 15, 16 anni fuori a tardissime ore a bere, a fumare. Io mi chiedo, ma i genitori a quell'ora dovrebbero essere a casa con il loro figlio, comunque avere anche la possibilità di tenerli monitorati. Il sindaco lancia un appello a tutte le famiglie di Rossano? Noi siamo presenti come amministrazione per aiutare le famiglie. Interveniamo anche in casi complicati con gli aiuti sociali, con l'assistenza anche delle persone che lavorano negli uffici del sociale, ma siamo disponibili anche ad accogliere proposte. E anche la scuola però ha il suo ruolo? La scuola in questo ha un ruolo primario, nel senso che episodi di bullismo che avvengono all'interno della scuola devono essere monitorati e gestiti dalla scuola stessa. Ecco, io spero che in questo la scuola dia delle risposte. Dell'episodio sono state informate le forze dell'ordine.